Altra sonora sconfitta per il papiro Fiumefreddo che cede in trasferta 3-0 all'elettronica Cicala Palermo, seconda forza del girone H della serie B2 di pallavolo maschile. Il sestetto di Ferluga però rispetto ai match precedenti mostra un piglio diverso, specialmente nel primo set, dove si arriva ai vantaggi chiudendo addirittura con il punteggio di 31-29 per i palermitani. Nel secondo e terzo parziale Nucifore e compagni non demordono ma vengono piegati rispettivamente per 25-22 e 25-20. Il carattere dimostrato dai fiumefreddesi dovrà essere sfoderato anche la prossima settimana sul parquet del palazzetto di Via Mendola quando arriverà alla gira, diretta concorrente per la salvezza. Servirà il pubblico delle grandi occasioni per spingere i biancoazzurri verso una vittoria che potrebbe essere dannatamente importante per la permanenza nella quarta serie nazionale.